Fare presente Parco Pacifico? Certo Stef, lo conosciamo tutti, chi è che non lo conosce? Ok, e Parco Consolini invece? Che vuoi fare? Voglio erradere solo, Parco Pacifico completamente E buildare la nostra nuova città Che si chiamerà appunto Parco Consolini Perché ripartendo da zero Noi costruiremo una città Ti piace? Molto Non ha mai avuto nessuno ufficialmente la propria città nel gioco Consolini, da ora in poi se l'impresa riusciamo a farla Ricordatevi sempre che Parco Pacifico In realtà è Parco Consolini Che almeno per un game avete avuto Parco Consolini Esatto, saremo gli unici al mondo ad aver avuto la nostra città Ricordatevelo bene, dovrà essere la vostra città preferita da ora in poi E scendete sempre lì No, non fatelo perché ci andiamo sempre anche noi Non andate lì, è una bellissima città È momento di salutare Stef Vero? Ciao! Aspetta, ciao! Mi l'ho dimenticato di premere Sarà una bella impresa, non è semplice E soprattutto mi aspetta anche un po' di lag Perché se iniziamo a buildare tanto Sarà fantastico, sarà fantastico Però è un duro lavoro di costruire una città da zero Ci vuole tanto impegno, tanto coraggio E soprattutto tanta legna Che spero di trovarne in giro Perché Parco Pacifico Non pullula di materiali Sono indeciso Se non andare a Parco Pacifico E prendere materiali da qualche altra parte Perché se tutti andiamo a Parco Pacifico Non so se ci basterà la legna Per fare un qualcosa di veramente figo Allora io rimango nella montagnetta Qua e inizio a farmi un po' di alberi Ok Cioè guardate Guardate Sembra uno stormo di uccelli Da quanti sono a Parco Pacifico Che spettacolo Subito è una roba bellissima Ok Allora Qualcuno altro mi sa che ha pensato La mia stessa idea Mi apro questa cesta E spero che questo qui Non sia proprio quello che vuole sparare tutti E che mi trova No esatto Subito da solo Speriamo bene Mi tiro per sicurezza comunque lo shield Ok Io sto iniziando a fare un po' di legna Ok ok Che sembra? Anche tu non sei scesa lì Ciao Mi hai ignorato Ciao Si è buttato di sotto Stai bene? Non fai un bel effetto alla gente Non mi hai fregato nulla Ciao Ce n'è un altro Aspetta Ok Allora Apriamo qui Lo so che sono lontano Adesso mi spara Dalle cose importanti Però se non coltiviamo un po' di legna Qua non riusciamo mica A fare qualcosa di epico Quando buildiamo Buttiamo giù Uno è arrivato Mi ha fatto vedere un fucilo Ho detto ecco Adesso mi spara in testa E io non ho nulla E invece te l'ha dato? Poi me l'ha dato Io gli ho fatto il cuoricino In tutta risposta Siamo migliori amici adesso Chiunque tu sia Perché non vedo il tuo nick Però tu lo sai Che sei tu Quindi va bene Va bene va bene Sto iniziando la gara tantissimo Non è una bella cosa Credo che l'effetto del fatto Che stiano distruggendo la città Oh mamma mia Fammi vedere che io sono qui dall'alto Oh Hanno già raso al suolo? Quasi tutta raso al suolo Come fanno ad essere così veloci comunque? Uno, due, tre, quattro Comunque Cioè bisogna metterli in campo edilizio i consolini Che sono dei carpentieri Vero Totalmente È incredibile Se tu puoi fare i game sparando Ma non saranno mai così veloci E come loro distruggono tutto È una cosa incredibile Che è veloce E comunque per ora La prima scritta che leggo Ha perso i sensi dopo una caduta Quindi al momento Anche qui Tutti rispettano la regola Perché i consolini sono fantastici Ma ormai l'abbiamo già capito questo Steph Lo stiamo dicendo sempre L'abbiamo capito tutti Bravi E' sempre bello Ok Salve Questo qui è venuto con me a prendere materiali Quindi dovremmo avere tutti i materiali Adesso facciamo la salita E teoricamente vedremo Una città già raso al suolo Perché immagino che abbiano già raso al suolo Sì Sì No aspetta però C'è uno che sta facendo gli alberi insieme a me Ti colpisco per sbaglio Se facciamo Fere Che succede? È già finita la città Io sono appena arrivato Hanno già fatto parco consolino Steph tu sei arrivato tardi No allora parco consolini è quando verrà costruita Però nel mentre comunque Comunque noi non abbiamo dato disposizioni precise per costruire Ma abbiamo detto costruite Hai visto? Eh ma pensavo abbiano dato picconate Steph Sai che mi piace l'idea di questo consolino? Sai che a me piace un sacco questa idea? Sì Io lo seguo Aspetta provo a portare Sai cos'è successo? Stava facendo il furgone da 100.000 Ok E si è preso picconate per sbaglio E il furgone da 100.000 E il consolino mi piace un sacco Ogni volta li vedo lì Che se lo rifanno Perché gli piace No ma ho fatto un muro davanti Ok Ok Io vorrei vedere anche dall'alto Quindi fra un pochettino Provo a salire a qualche parte Perché lo sapete Che mi piace vedere queste cose dall'altissimo Allora ti dicevo Noi non abbiamo dato disposizioni Quindi sarà anche curioso vedere Come i consolini La creatività Esatto Vedono il loro parco Perché deve essere loro Guarda l'unica cosa che ho capito È che i consolini non amano i ponti Perché ogni volta che qualcuno Prova ad andare un po' in alto La gente butta giù tutto Quindi evidentemente I consolini i ponti non piacciono Esatto Ma gli piacciono tanto le piramidi Questo l'abbiamo capito Sì Sì è vero Le cupoline gli piacciono tanto È vero Hai visto la fortuna Parco Pacifica dentro la zona Vai Extra bello Comunque a me questa cosa piace Io faccio le piramidine Anche io le ho già fatte Ho finito tutti i materiali Sono di piramidi Però tu sei piena di materiali Io ne ho fatti tanti Ho fatto tutte le cose in legno Te l'ho detto Ero in zona E poi da sopra la montagna Vedevo tutto il parco Che veniva distrutto Ed è stato bello È stato molto bello Oh Consolini Guardate cosa sta diventando Parco Consolini Questa la dovete fotografare tutti E metterla su Instagram Perché ce la dobbiamo tutti salvare E ci dovete taggare Taggati taggati su Instagram Va fatta Perché ce la dobbiamo tenere pervisto sempre È scritto tutto attaccato Tanto lo trovate il nostro account Quindi taggateci Oh yes No perché va salvata e preservata Allora io vorrei andare da qualche parte Per venerlo dall'alto No 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 Che succede? No 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 Abbiamo il primo furfante Fucile da cechino Non è che magari è rimasto come il game di Pinnacoli Che tipo quando si finisce ci si spalla Eh lo so infatti un po' di rischio Lo abbiamo sotto questo punto di vista Eh purtroppo ci si può anche confondere Però per ora io qui non vedo caos Eh dove sono io perlomeno E poi perché rompono sempre i ponti Consolini Non fatelo Voglio vedere dall'alto Ho un bel ballo Vediamo Allora vediamo da qua Wow Farei guardare il mio schermo No Cosa abbiamo detto dei ponti No non fa fare un ponte No non ci devi stare Non gli piacciono Come faccio a guardare dall'alto Eh i consulini non piacciono i ponti Ah vabbè Qualcuno ha sparato Dovresti salire su un ponte veloce veloce Su una montagna Almeno la montagna è fisica Guardate Però li fanno anche i ponti Alcuni sono temerari E li fanno lo stesso Non gli frega nulla Il discorso è Io Ho nove di vita Comunque c'è da dire Steph No 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 Non sparate Dimmi fare È un parco strano Vero Quello che i consulini hanno scelto È un parco strano Beh sai Se metti la creatività Di 82 persone Che iniziano a costruire Quello che vogliono Esce quello È bello quello È arte Steph Arte contemporanea questa Sì beh Arte consolinaria No 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 Mi ho dato anche un nome Raga io non posso prendere queste bende Non posso prendere A me servono le bende Aspetta ci provo io a prendere No sono buggate Credo che sia Perché quello ha sparato Sono buggate Non fa prenderle Ci ho provato anch'io Perché ha sparato Non so Forse sei convinto Che Tabba ha buttato giù Qualcosa del genere No no Steph Sono buggate Non so Sono buggate totalmente Non so Però Ho anche provato Ma non fa Io vorrei vedere dall'alto Comunque stanno iniziando Un pochino a spararsi tra di loro Probabilmente non hanno visto Oppure si stanno arrabbiando Chi rompe ponti a chi Capito Eh può essere sì Che ci sta Ma ci sta Avrebbe senso Eh avrebbe senso Comunque la missione principale È già completata Io vorrei semplicemente Aiuto La mia nuova missione Che è successo? Mi hanno fatto esplodere Con una granata? Sì Mi spiace Io stavo Allora stavo saltellando Tra le varie piramidine Per godermi tutto il parco Invece boom Allora dicevo La mia nuova missione È riuscire ad andare in alto Su una montagna Lato che i ponti li rompono Sì È riuscire finalmente A goderci il panorama Di parco Consolini Vediamo se ce la faccio E mi rubano anche i materiali Mi fa ridere Che tutti mi proteggono Si mettono attorno Però cioè non mi possono arrestare Quindi forse non riescono a fare tanto Beh qualcuno ti sta arrestando Sì ora sì Un tuo compagno ti sta arrestando Quindi dovrebbe essere tutto a posto Steel crow Steel crow Come faccio ad andare in alto Questa montagna Ah quella sarebbe la montagna giusta Vedi Se non mi sparano Ce la facciamo Se non mi sparano Ce la facciamo Se non mi sparano Ce la facciamo Consolini Comunque guardate Abbiamo palazzi Piramidi Ponti Cioè dove è arrivato quello? Dove è arrivato col ponte quello? È un pazzo Ma guardalo Quel ponte non l'hanno rotto però È perché È difficile capire Se tu insisti Capito Ma guarda Cosa tutto c'è Qua poi hanno anche bucato C'è un buco Perché questo era il sotterraneo Di una casa Quindi c'è un buco enorme Ma in mezzo al parco No raga è incredibile Bellissimo Davvero 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 incredibile Io in tutto questo sto cercando delle bende Nulla eh Niente non ne ho trovate neanche io Non hanno lasciato più nulla in giro È totalmente andata Allora rimane un pezzetto minuscolo di questo posto Ok Ce la facciamo Consolini datemi una mano Ditemi che avete materiali Ce la fanno? Aspetta forse ce l'ho fatta No Ti prego Un ponte Un ponte Voglio salire in questa montagna Dai L'ha capito? I Aspetta Faglielo capire Aia Che c'ho nove di vita Aia Non potete dare piccoli qua Oh mamma mia Mi serve Una Mano Aspetta Dove sei? Sì La gente mi imita Invece che bullare I Dai Non dovete imitarlo Un ponte Oh Ce l'ho fatta Oh Bello Wow Bello 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 Adesso dovete fare lo screen Ora dovete fare lo screen Che cos'è? Quando avete mai visto una roba del genere su Fornet Oh mio Dio È appena crollato un ponte Ma va bene L'abbiamo detto Guardate Guarda quellino Guardalo C'è un ponte lunghissimo che crolla Lo vedo Lo vedo in questo momento Ora manca l'altro Ora manca l'altro Ma guardate la città È un qualcosa di incredibile È un qualcosa di incredibile Sì Bello Molto molto bello E sta per arrivare la nuova zona Quindi godiamocelo finché possiamo Parco Consolini Eccolo qui Ve lo presentiamo in tutto il suo splendore Sei caduto da solo? Stavo saltando Uno ha saltato Mi ha fatto sbattere E invece che saltare sul ponte Sono caduto Bene Steph Bene Potresti finire Non lo so se ce la faccio Ciao Consolini Non c'è la zona Mo Steph Consolini Vabbè tra un pochino So che non vi potete rianimare Ma apprezzo il vostro amore Sì Poi si attaccano Ti guardano Ti proteggono Però aspetta Sta arrivando Steel Crow da te Sì Eh sì Anche se vedo qualche colpo Di qualcuno che mi sa Che prova colpirmi Guarda Steel Crow lo voglio nominare medico Perché ha salvato me Ha salvato No Che succede? Qualcuno mi sa che si è accorto dell'occasione Cioè? Eh che stanno sparando Ho capito? Eccomi Ok 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 mi sta rianimando E poi eccomi Ho 30 di vita e non ho materiali Cosa ci faccio qui? Non lo so Andiamo a fare guerra Ok Come? Vieni 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 So chi è il furfante A 165 Ok È la persona che sta rovinando Parco Consolini Devi seguirmi Ok Vieni 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 Io non ho vita Non ho materiali Non ho nulla Ho solo un vampa fucile Bianco Con 48 colpi Ma noi dobbiamo porre fine Io ho un M16 A chi vuole distruggere Il nostro Parco Consolini Ok Eh ma non so chi è Eh ma non so chi è Eh ma non so chi è Chi è? Non so più Non so È questo Ferre 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 Quello con la skin Del pass battaglia Eh buonanotte È andata? Cioè Steel Crouch Forse l'ha ucciso Eh ce l'ha fatta No 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 Sta continuando a tramortire tutti Avrà tipo 10 15 kill È caduto Ce l'ha fatta Sai chi ce l'ha fatta? Nate Il nostro moderatore di Discord Nat Io dico Nate Secondo me è Nate Perché Ce l'ho dirato Il 4 sarebbe al posto della A E in inglese Nate Non Nat Secondo me è Nat Secondo me è Nate Secondo me è Nat Ha giustiziato Uno dei nostri moderatori Il disgraziato Uccidetelo Soprimettelo Ma Steel ci puoi restare? No 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 Comunque ho notato che alcuni si intrufolano Corri corri tranquillo Hai capito? Mh? Che alcuni si intrufolano E lui è ok Che alcuni si intrufolano Sì